È un'opera straordinaria, è un godimento per gli occhi, vedere come queste infrastrutture enormi, pesantissime, vengono manovrate con grande abilità e poi vengono installate sopra i manufatti preparati nel giro di una notte, quindi questa autostrada viene interrotta soltanto per una notte e poi la Pedemontana prosegue con velocità, un'opera fondamentale per tutto il nord Italia. È una campata da 58 metri per un peso di 400 tonnellate, stasera abbiamo chiuso l'autostrada, stiamo montando la careggiata est, domani sera facciamo la stessa operazione per montare la careggiata ovest, poi cominciano le operazioni di vestizione dell'impalcato con le predalle per procedere con la sovrastruttura superiore alla soletta. Questo significa che gli investimenti che vengono fatti non soltanto permettono di realizzare un'infrastruttura essenziale per il territorio, non soltanto lombardo ma italiano, perché la Pedemontana è destinata a velocizzare i collegamenti est-ovest nel nord Italia, ma sono anche una misura anticiclica contro la crisi economica.